Il Polo Espositivo di Piazza Mercato a Sindia ospiterà sabato 11 marzo a partire dalle ore 10 la presentazione del progetto Cavalli, Cavalieri, Comunità, Storie e Futuro di Margine e Goceano sostenuto dalla Fondazione di Sardegna. L'obiettivo è definire un piano per la valorizzazione del cavallo in Sardegna partendo dalle specificità delle diverse subregioni come appunto il Margine e il Goceano che hanno iniziato a collaborare apprendo un dialogo con i territori limitrofi. Si tratta di un progetto di tipo operativo che dà forma e metodo alle proposte costruttive emerse via via dagli operatori, dal comparto e dalla società civile che unisce cittadini, appassionati, giovani che stanno investendo su un'idea di futuro condiviso del territorio. Un'attività di ascolto ed impegno diretto e operativo di sindaci e amministratori di 10 comuni di Margine e Goceano pienamente coinvolti nella prospettiva di considerare il cavallo, i servizi e le produzioni locali, la nuova residenzialità come elementi importanti del piano del distretto rurale del centro Sardegna. Sono stati realizzati già un brand tematico su cavalli, cavalieri e comunità, un sito web di riferimento, le pagine social, un evento importante per iniziare a valorizzare i siti e gli operatori che collaborano in una logica di offerta territoriale. Nei mesi scorsi numerosi cavalli e cavalieri, donne e uomini del territorio hanno partecipato ad alcune riprese cinematografiche per trailer di film che potrebbero essere registrati nei luoghi simbolo di questa parte del centro Sardegna. Sono inoltre stati attivati i contatti con altre realtà italiane come la comunità che a Siena partecipa al palio nel quale cavalli e cavalieri di Sardegna hanno un ruolo di assoluti protagonisti. Le relazioni sovra regionali consentiranno di mutuare esperienze lavorative di eccellenza.